che partita si aspetta domenica con apple c'è quale potrebbe essere la chiave tattica del incontro c'è una squadra che che al di là che è una grandissima squadra di dice proprio di talenti di tecnica di tutto quanto e che capace di di fare segola fiorentina 4 atalanta 4 a roma stiamo parlando di un potenziale immenso a volte a volte sprecano tante occasioni come contro spezia dove dovevano fare tantissimi gol e poi alla fine hanno perso quale chiave tattica penso che noi dobbiamo fare una grandissima partita c'è magari migliore di quest'anno per per essere competitivi contro di loro bisogna andare rischiare andare provare vincerla giocare con coraggio perché si si va in un altro modo secondo me poi poi finisce 6 a 0 no cioè fiorentina spero di no però è una squadra squadra veramente che ha capacità capacità immense qualità tecnica immense e la partita di domani e dalla poi seguito a un possibile bilancio di questo straordinario girone d'andata ecco lo so che mancano ancora 90 minuti e che più volte ti sei espresso ma è stato un girone d'andata che è davvero andato oltre a ogni più rosa e aspettativa e volevo sentire il tuo parere oggi in questo momento no oggi ho detto mille volte che con tutte le cose che che ho detto che sono stati per me come come lavoro e peggiori in senso più difficili non peggiori più difficili per lavorare per per varie ragioni come abbiamo già detto mille volte senza ritiro quindi giocatori nuovi tanti infortuni covid e abbiamo fatto veramente tante belle cose penso che adesso ci stiamo stabilizzando mettiamolo così e vediamo cosa siamo capaci di fare questa partita e poi tutto girone di ritorno però bilancio c'è eccezionale secondo me ovviamente non parliamo di calcio mercato lo so però potrebbe veramente arrivare una punta il profilo di una punta e allora in chiave tattica ti chiedo tu avevi già provato a giocare con kalinic e di carmine insieme può essere una soluzione per il futuro del verona una soluzione a livello continuativo dico giocare con due vere punte di peso ma io penso che in certe partite sì si può fare in certe partite in altre non ha senso in altre magari meglio giocare senza cioè io lo baso un po su queste cose no poi dipende anche di di forma no cioè si hai magari due che tutte e due stanno benissimo e si trovano bene cioè va bene però io scelgo più alla base tattica come diciamo fare male ad avversario e a volte penso che è meglio avere due a volte penso che una o nessuna no cioè però è un'opzione come è stata fino adesso innanzitutto ceccherini come sta in difesa e dopo anche di pavel davidoviz adesso detto che tamesa recuperato ti chiedo appunto se pavel poteva essere nel caso in cui adri non riusciva ad essere la partita una ipotesi in mezzo al campo visto che a bologna abbiamo visto l'azzovic un baracca in quel caso nota mezza recuperato e spero che 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 gioca lui adesso vediamo anche domani allenamento e che riesce a fare tutti i minuti la ceccherini oggi ha fatto cominciato a fare qualcosa e sempre quando hai un tendine infiammato cioè non sei mai al massimo però domani fa primo allenamento con la squadra e vediamo sì sì possiamo utilizzarlo e pavel e cioè nella mia testa è più una emergenza cioè quando lo metti in mezzo e ci sono certi magari momenti dove vai su questo secondo me noi siamo in un momento mi dispiace per tamezza e per l'ultima partita dove abbiamo fatto passi in avanti a livello di gioco con con tamezza in mezzo e barac tre quarti volevo dare cioè voglio dare continuità di prestazioni no c'è di cercare comunque che che le sicurezze che ci troviamo che che cominciano conoscersi bene perché alla fine poche partite abbiamo fatto cioè diciamo con la mia idea del calcio no e adesso adesso è questo cioè spero che lui sta bene e che gioca e giocherà lui in mezzo per quanto riguarda le seconde punte insomma si gioca col Napoli e il nome di Zaccani è stato tanto tanto associato questo immagino che non potrà influire nelle tue scelte o sì cioè c'è pensato a questa cosa o non o non ti interessa nulla di Zaccani se pensa a me io penso diversamente penso anche a me non piace quando si parla così di Verona o che parla procuratore di Zaccani cioè è mancanza di rispetto verso di noi il giocatore sotto contratto nostro il giovane ma perché dobbiamo venderlo alla fine no cioè io ragiono così io non vedo altre squadre che vendono io il vedevo a Bologna altro giorno c'era Tomiassu c'era Barrow c'era perché se noi siamo meno di Bologna dove Verona Elas come mondo Elas come valore delle società siamo a chi a chi ci riferiamo quando parlano così che non vuol dire che non li vendi non mi piace perché è una cosa così penso che Zaccani è troppo intelligente cioè si può influire che se c'è qualcosa così che non 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 influirà su 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 rendimento ma nemmeno sulle mie scelte sarebbe una cosa veramente di una gravità enorme cioè sembra che sia un mercato e che che facciamo così favore all'altri per cui ti rispondo così Zaccani gioca non credo che pensa non mi piace che il procuratore parla in questa questa ottica anzi lo penso veramente una cosa di mancanza di rispetto poi società deciderà si vende o non vende però c'è un po' di rispetto ci vuole secondo me non è che siamo a mercato ci rimane praticamente un solo un solo dubbio che è la formazione domani gli esterni confermi di Marco pensi di riportare Elasovic a sinistra o magari anche a destra e poi volevo chiederti sulla punta se c'è un ballottaggio se Kalinic comunque partirà dall'inizio no a me Elasovic è piaciuto anche in mezzo penso che ha fatto una buona partita cioè destra no penso giocherà Faraoni poi la sceglierò ancora ancora non ho deciso i davanti davanti sono questi due in questo momento e vediamo anche loro domani tutto il cognito Ciao Ciao Ciao